Saluto anche l'assessore Marco Buonamici, assessore alle manifestazioni e la consigliera con delega al commercio Tatiana Bernardi. Allora, cominciamo. Io invito i ragazzini del Porto Sese Calci a salire sul palco. Dovete passare da dietro, ragazzi. La scala è dietro. Allora, oggi conosciamo le squadre giovanili perché ieri sera è stata presentata la prima squadra. Oggi conosciamo tutti i ragazzini che compongono questa grande famiglia del Porto Sese Calci. E poi vi farò conoscere anche una ragazzina, l'unica cacciatrice che sta crescendo con i suoi compagni nel gruppo della nata, del tipo di grado. Allora, ragazzi, forza. Dobbiamo iniziare con il suo acquisto che giovanciano dal 2008 al 2018. Oggi non ci saranno tutti perché alcuni sono già in viaggi nel campionato, negli amichetti, ma c'è una grande rappresentanza. Insieme a loro salgono alcuni allenatori e salgono altri.